Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video del canale. Oggi torna a nostra rubrica comprare o no ed il set di cui discutiamo è Genesis Impact in uscita il 4 dicembre. Iniziamo come sempre dalla noiosa scheda tecnica, il set contiene 60 carte in totale suddivise in questa maniera. 10 Ultra, 15 Super e 35 Rare. E in aggiunta a queste ci saranno anche 15 carte disponibili in rarità Collector. Non ci saranno secret nel set e il tutto è strutturato in maniera molto simile al già visto Toon Chaos. All'interno di Genesis Impact, oltre alla classica quantità industriale di ristampe che vedremo più avanti con molta calma sul Konami Cardi B, verranno introdotti anche tre nuovi archetype, Magistus, Evil Twin e Drytron. Analizziamoli insieme qualche minuto. Direi di partire da Magistus, archetype di incantatori che va ad incastrarsi a livello di lore e di gioco con altri archetype preesistenti. Tanto per elencarne alcuni, Invoked, Shadow e probabilmente anche Charmer. La meccanica principale di Magistus è quella di poter equipaggiare mostri di archetype direttamente da extra deck, che una volta equipati andranno a fornire effetti particolari. Il Fusione andrà ad aumentare attacco e difesa di 1000 e, se equipaggiato un mostro dell'oppo, gli impedirà di attivare gli effetti e lo andrà praticamente a rubare. Il Syncro proteggerà il mostro equipaggiato dalla distruzione tramite magie trappole, l'X-Ease darà la possibilità di attaccare due volte ed il Link offrirà una cercata di un mostro di archetype dal mazzo. Ovviamente tutte queste carte hanno anche un altro effetto primario quando vengono calati sul tavolo come mostri, ma non voglio dilungarmi troppo, elencandovi tutto e ne parleremo quando uscirà il loro video dedicato. In soldoni comunque l'archetype ora come ora non riesce a reggersi in piedi da solo e l'unica versione realmente performante del mazzo è l'ibrido con Dogmatic e le Magicians Souls. Anche giocando il deck in questa maniera non si possono però ovviamente fare grandi miracoli e anche a livello economico non è un mix troppo consigliato perché insomma il rapporto qualità-prezzo non è sicuramente dei migliori. Un gran peccato perché l'idea di base dell'equipaggiare mostri direttamente da Extra Deck a parer mio è veramente molto carina, sarà anche forse perché io sono sempre stato un grande fan della meccanica dell'equipaggiamento e la mia speranza è che magari nel 2021 esca qualche nuova carta da aggiungere o ancora meglio l'archetype corrispondente a Magistus Flame Zoroa che ancora non è presente nel gioco. Procediamo con Drytron, non c'entra assolutamente nulla con la giocabilità del mazzo ma questo deck ha secondo me degli artwork incredibili e sono ovviamente un po' sulla falsa riga dei Madmec ma comunque sia sto divagando. Drytron funziona come un ottimo deck rituale che ha la possibilità al suo interno di includere tante strategie diverse e ovviamente anche tanti rituali fra virgolette totalmente strane all'archetype stesso. Quindi tanto per farvi qualche esempio possiamo includere qui Chaos Max, le Cyber Angel, gli Araldi o se vi sentite in vena di trollare la Morphage che fa perdere la Main Phase 1 dell'avversario e tanti altri ancora. Oltretutto essendo un deck con base macchina può abusare di tante carte molto carine come ad esempio la Cyber Emergenza e ha degli effetti che gli permettono di riciclare bene le proprie risorse e per come funziona in sé il mazzo si presta anche a poter calare Link e quindi non è limitato solamente alla strategia dei rituali. Purtroppo però come sempre non è tutto oro quello che luccica ovviamente anche questo Drytron ha la sua buona dose di problemi. Il mazzo non regge contro il fiume di Entrap che circola ora come ora due Entrap tirate a caso vi costringono a passare con molta tristezza nel cuore ed il problema più grosso è sicuramente quello di non avere delle combo particolarmente convincenti a prova di Nibiru che quando tocca la board vi deflagra la vita ed il campo. Ultima pecchia purtroppo il mazzo non plussa e quindi per imbastire board vi andrete a consumare allegramente tutta la mano iniziale. A conti fatti però questo è sicuramente il deck con il maggior potenziale l'unico che convince un pochettino già da ora ed in futuro riceverà anche un'ottima carta di qualità ovvero la Diviner of the Herald e se magari la Konami dovesse per qualche stana ragione decidersi a stampare un'altra cartina aggiuntiva per tamponare almeno uno dei problemi che abbiamo elencato prima magari potrebbe combinare delle cose molto molto interessanti durante il 2021. Per concludere siamo arrivati a Devil Twin solitamente il meglio si lascia per ultimo ma questa volta ho voluto sorprendervi e tenere l'archità più scarso per il finale di questa sezione del video. Parlando con tante altre persone mi sono reso conto che molti sono convintissimi che il peggiore fra questi sia Magistus ma almeno loro sono splashabili in un'infinità di deck cosa che invece con Devil Twin non si può fare. Iniziamo comunque dai punti a favore del mazzo in primis c'è da dire che sono carte Cybers e quindi possiamo inserire qua dentro staple utili come Sinite Mining Parallelic Seed ed anche i tanti Most Extender solitamente disponibili nel pool di carte Cybers un'altra cosa abbastanza buona è sicuramente la possibilità di ibridare il deck con Svincolati il mazzo infatti sinergizza molto bene con loro e soprattutto con il Link 4 perché con il mazzo quindi con le sue Link tematiche abbiamo la possibilità a tutti i turni di pescare uno o spaccare una carta sia nel nostro turno che in quello dell'avversario e ovviamente sempre che risolvano i loro effetti e se sulla board c'è anche il grossone svincolato Link 4 praticamente andiamo a guadagnare degli spacchini addizionali durante tutti i turni se oltre a lui poi andiamo ad aggiungere tutto l'engine svincolato quindi le trappole, i mostri e tutto il resto bisogna ammettere che il mazzo riesce a giocare anche attraverso alcune negate e riesce a tankare anche alcune entrap cosa che normalmente fatica a fare bene per concludere con i punti positivi di Evil Twin dobbiamo ammettere che il mazzo ha una grande consistenza è molto difficile legnare anche perché i due mostri di main deck Kiskiel e Lilla ci fanno evocare la controparte da mano o deck ed anche le magie di archetype praticamente vi fanno specialare una delle due tipette dal main deck l'unico problema che ho io con questo deck nonostante tutto è la board di primo turno che non è mai nulla di realmente impressionante tanto per darvi un'idea delle board finale migliori che potrete andare ad imbastire con il mazzo puro quella più classica è l'uncendo run 4 più la Kiskiel Link 2 per avere due pop nel turno del loppo oppure una delle Link 2 con Link A un Nightmare Grifone che insomma diciamo che non fanno proprio perdere il fiato ci sono anche poi da considerare eventuali entrap che potreste avere in mano e trappoline che magari potreste settare ma capite anche voi che non sono proprio due start particolarmente potenti l'idea di base dell'archetype è quella di andare ad alternare ed evocare costantemente queste Evil Twin Link per risolvere gli effetti e quindi plussare o spaccare carte del loppo costantemente sia nel nostro turno che in quello dell'avversario ma nella pratica questo risulta molto difficile e spesso il mazzo si ritrova con una mano abbastanza asciutta o senza delle giocate realmente prepotenti da poter proporre sulla board proprio per questa ragione secondo me è l'archetype meno convincente di questi tre introdotti nel set non ho altro da aggiungere riguardo ai nuovi archetype direi che è quindi arrivato il momento di dare una sbirciata veloce alle ristampe sul Konami Cardi B quindi eccoci qua sul Konami Cardi B diamo un'occhiata molto rapida alle ristampe che dovrebbero essere se non ho sbaglio 24 a memoria congegno 6 verso, artista mago, strucco, cappello, disegnatore di stelle queste tre abbastanza dimenticabili Cyber Angelo, Ben 10, Grifone e Cyber Emergenze invece sono delle ristampine abbastanza utili Ben 10 e Cyber Emergenze servono per Drytron e Grifone invece è praticamente una staple per Evil Twin visto che è una delle poche giocate di cinti che potete fare di primo turno procedendo, sepultura shock extra nato sotto Draconis e buco trappola senza fine abbastanza inutili scendendo troviamo l'araldo della fine ultima anche questa è una carta che può essere inclusa con ottimi risultati dentro Drytron Calice e poliziotta abbastanza a me Segretario di backup, anche questa è una carta che non aveva assolutamente bisogno di una ristampa Unicorn e Finisce sono delle ristampe invece sempre apprezzatissime quindi non ci lamentiamo anche loro servono ovviamente per Evil Twin e non solo numero 96, carta solo per occupare uno slot Aleister, Libro della Legge, Cocito e Magellanica non sono affatto male come reprint, soprattutto l'Aleister però qua manca la carta che insomma era probabilmente più importante e che necessitava di più della ristampa ovvero l'Invocation senza l'Invocation tutte queste hanno secondo me poco senso qua dentro e per concludere abbiamo una Signet regressione che è assolutamente una ristampa terribile a dir poco Eredità del Mondo, Lancia del Mondo, anche questa molto molto inutile Incisore del Marchio, non ne parliamo neanche altra ristampa super iper mega fuffa e per concludere un Artista Magus, Giocoliere del Danno che non è una ristampa terribile ma sicuramente c'erano tantissime carte che potevano essere incluse qua dentro e rendere questo repartino di ristampe molto più interessante Bentornati ragazzi come al solito è arrivato il momento di porci la classica domanda Varrà la pena acquistare uno o più box di questo set? Oppure no? La risposta è... La risposta è... Indovinate? Assolutamente no Se avete seguito con attenzione la sezione del video in cui parlavo nel dettaglio degli archetype probabilmente avrete già intuito da parecchio quale sarebbe stata la risposta finale I team introdotti in questo set non sono per il momento abbastanza rilevanti o capaci di raccontare qualche cosa di convincente ai mazzi da meta senza dover ricorrere a mix improbabili come ad esempio Dogmatica e compagnia c'è da dire che però la situazione potrebbe magari cambiare nell'anno nuovo in caso di uscita di nuove carte di supporto studiate per loro di qualità mi sento di paragonare un po' questo set al passato Mystic Fighters per infrescarvi la memoria a quello che conteneva Generator, Dragon Maid e Matmec se vi ricordate anche loro appena usciti erano abbastanza dimenticabili come archetype ma poi i supporti hanno fatto il miracolo e sono riusciti a salvarne 2 su 3 e fra parentesi F per Matmec in the chat e sinceramente mi aspetto un qualcosa di simile anche per quanto riguarda questo set quindi probabilmente magari 2 li riusciranno a salvare e uno farà la fine del F per Matmec la domanda è quale dei 3 quindi in sintesi consiglio l'acquisto di questo set solo a chi vuole rischiarsela ora per magari ritrovarsi e fare le mani fra parecchi mesi un deck magari non top meta ma almeno utilizzabile decentemente e particolare la scommessa più safe è Drytron mentre il destino degli altri 2 archetype è molto molto incerto e ovviamente come al solito se deciderete di buttarvi comunque sull'acquisto di uno di questi nuovi temi vi consiglio di acquistare le carte che vi servono direttamente in singole so già che qualcuno qua sotto sicuramente mi chiederà cosa ho intenzione di fare io con Genesis e quindi vi darò subito la mia risposta inizialmente volevo ignorarlo totalmente ma poi ho deciso di dare un'occhiata a Evil Twin e Magistus molto probabilmente se fra una settimana 10 giorni i prezzi si abbasseranno parecchio potrei decidere di acquistare uno dei due archetype Drytron era quello che mi piacera di più ma sono assolutamente seppellito da archetype rituale comunque come sempre sono curioso di sapere cosa farete voi quindi se acquisterete box se acquisterete singole oppure se lo ignorerete totalmente se vi va quindi lasciate un commento qua sotto io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale ciao ciao